Sono state accolte le mie richieste in materia di sicurezza degli edifici personali e risorse e per questo sono soddisfatto. Ad affermarlo è il presidente dell'Uti Coglio Alto Isonzo e sindaco di Gorizia Ettore Romoli commentando l'accordo siglato con la Regione sul passaggio delle funzioni collegate all'edilizia scolastica. Non ho fatto una battaglia politica ma nell'interente degli studenti, delle famiglie e degli insegnanti cui bisogna garantire un ambiente sicuro ed una situazione gestionale idonea, rimarca e nel momento in cui questo mi è stato assicurato ha sottoscritto l'accordo pur rimanendo molto critico sulla gestione delle Uti da parte della Regione. Però ripeto, per prima cosa bisogna pensare all'interesse dei cittadini. Voglio anche ricordare, continua Romoli, che in ogni caso la legge impone il subentro da parte delle Uti nelle funzioni già della provincia in materia di edilizia scolastica e di istruzione e la Regione avrebbe potuto obbligarci a farlo anche senza intesa. Fortunatamente è prevalso il buon senso e si è cercato l'accordo accogliendo alcune fondamentali prescrizioni. Vigilerò attentamente perché tutto questo sottoscritto e promesso venga mantenuto. Romoli spiega quindi che l'accordo siglato prevede che tutte le scuole superiori dell'Isontino quindi anche quelle del Munfalconese passino alle Uti Collio Alto Isonzo dopo una ricognizione congiunta degli edifici per verificarne le condizioni. Inoltre la provincia si impegnerà a fornire all'Unione Collio Alto Isonzo, all'Unione Carso Isontino Adriatico e ai comuni subentranti nelle proprietà degli edifici scolastici la documentazione in suo possesso che accerti lo stato di sicurezza degli immobili e il loro stato di conservazioni, comprese le certificazioni richieste dal comando dei vigili del fuoco prima della sottoscrizione dei rispettivi verbali di consegna. Nel caso in cui ci fossero degli interventi manutentivi da effettuare, la Regione si è impegnata a sostenerli finanziariamente e non solo. Alle Uti sarà assegnato anche personale tecnico ed amministrativo che in precedenza gestiva l'edilizia scolastica per la provincia, assicurando così una gestione idonea del settore. Tale personale sarà totale carico della Regione che concederà anche adeguati spazi reperibili nel palazzo della provincia. Infine il Sindaco ricorda che la gestione delle scuole nell'ambito mofalconese da parte delle Uti Collio Alto Isonzo durerà fino al 30 giugno, data entro la quale, previo accordo, tale gestione passerà all'Uti Carso Isonzo Adriatico.